personaggio che ti è piaciuto di più interpretare quello che è stato per te più stimolante ma guarda si tende sempre a dire l'ultimo perché in realtà poi è diciamo il punto di legame emotivo più recente ancora vivo ed è in parte è così chiara rubic sicuramente è stato un personaggio che ho amato molto e poi ho amato tutti quei personaggi che mi hanno arricchita perché magari erano più di me non so penso a di padre in figlia questa serie rai nella quale racconto la storia di questo di questa donna che tra gli anni sessanta e gli anni ottanta concretizza e realizza questo questa emancipazione femminile nei fatti scegliendo di essere la prima donna laureata in chimica in italia scegliendo di diciamo contrastare la visione paterna di una impossibilità a diventare per questa ragazza diventare poi l'erede del padre nell'impresa familiare e a quello sono particolarmente legata io considero lo sport un terreno di espressione di tante cose per un essere umano intanto di messa in discussione sempre costante di se stessi perché è uno sport di squadra che ha molte dinamiche quindi è molto complesso per una persona l'agonismo poi in generale credo che che faccia bene perché ti spinge sempre a cercare di superare i tuoi limiti che in quel caso sono fisici eh e o psicologici e poi quel modello di diciamo di di competizione con se stessi lo puoi applicare a tutto nella vita ed è quindi un rilancio a cercare di far sempre meglio per cui per me lo sport è anche molto molto formativo poi il calcio è anche una passione adesso cerco di razionalizzare però è proprio una passione è pancia cioè a me il sottofondo della partita vedere la partita andare allo stadio sentir parlare di calcio dal bar sport dal giornalaio dal macellaio è vita per me mi piace mi piace da matti e non so dire perché fondamentalmente ma è il gioco più bello del mondo va bene grazie mille buona giornata ciao 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 maria grazie ciao 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 ciao